Il 23 settembre ci siamo visti, siamo andati a Chiaveri, siamo andati a mangiare fuori, ci siamo conosciuti. Cosa avete mangiato? Sono andato a mangiare una pizza. Cosa hai pensato di Emiliano? Era molto tenero, carino, simpatico, dolce, molto galantuomo. Proprio mi ha conquistata. La prima sera siamo andati in una pizzeria a Chiaveri. Noi 7, 6 in poi sono dietro dove uccimentopi essere attenuti con 나오� oder avete lontano comenzato. Blanda dalla Sichate Pl 260 frio. A la ragazza di Kna al centro per la laioni fino a il Boss Costa, Abbiamo una pata ballotica, Ora城 Caseballe is America. Together with hearts Come la tempesta, come la ria fresca, come la morrezza, che bella come la giornata di sole. È veramente una donna speciale, è un'ottima madre, è un'ottima compagna, ha i suoi momenti di fragilità, ma la cosa bella è che quando poi trova la forza è veramente una donna su cui puoi fare affidamenti. Emeliano è un papà premuroso, dolcissimo, con me è sempre stato molto dolce, spesso si vede che ci tiene a me, è molto romantico. Quello che prevale è sempre l'amore e la felicità. Ci sono cose nella vita che ti mettono alla prova, si possono superare soltanto attraverso l'amore. Nostro figlio oggi ha avuto l'onore di scusarsi. E' la cosa più bella che ci possa essere per noi e spero nel loro futuro di essere felici loro come noi siamo noi. Loro per tutta la vita avranno sempre un papà e una mamma. E' il nostro appoggio a prescindere. Auguri a tutti i nuovi sposi. Auguri a tutti. Tanti, tanti, tanti cari baci e tanta pazienza. Il consiglio che darei ai nuovi sposi è quello di volersi sempre bene, di aiutarsi, comprendersi e nei momenti di difficoltà dialogare senza dover urlare, discutere. E se in futuro c'è qualche crisi, c'è qualche cosa, la nonna è sempre disponibile a tenere i bambini e loro a farsi un viaggetto da soli a risolvere eventuali problemi. Ancora tanti auguri a Claudia Emeliano e ai due stupendi bimbi. Hai l'ansia per questo giorno? No, non si vede! Molto, molto, molto agitata. Sarà uno dei giorni più belli della nostra vita insieme. Sono un po' agitata. Diciamo che fino a 5 minuti fa no, ora sono un po' agitata. Riuscivi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Diciamo che fino a 5 minuti fa no, ora sono un po' agitata, nel nome del Padre, del Figlio e del Figlio e del Figlio e del Figlio e del Figlio. Diciamo che fino a 5 minuti fa no, ora sono un po' agitata, nel nome del Padre, del Figlio e del Figlio e del Figlio e del Figlio. Direi amore mio, siamo qua, ce l'abbiamo fatta. Non vedo l'ora di goderci questa giornata insieme e questa vita insieme. Non vedo l'ora di goderci questa giornata. Oggi siamo caduti fuori testa e costruzzi in me sta fattando una gara testa. Ma ne stavamo divertire, vivere e mandare e non ne stavamo giocando un po' male. E ora facciamo un brindio a Claudio e a Milano e ne facciamo sentire fino a Milano. Aspetta, non è un buono a finire da me, adesso abbiamo parlato in siciliano ma adesso voi in italiano. E adesso parliamo pure in italiano ma lo facciamo molto piano piano. Vi auguriamo tanta felicità e figlia volontà. Ma ora bisogna andare perché dobbiamo pure ballare. Ok, ciao Claudia, c'è Miliano, un mondo di bene, tanti auguri. Auguri ragazzi. Ciao Emy, ciao Claudia, vi voglio bene innanzitutto e vi faccio tanti auguri per questo giorno. Ma la prossima volta vi dovete sposare in Sicilia. Vi voglio bene. Auguri ragazzi. La prossima. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS